La capitale del Belgio! Bruxelles, con la S finale, come ti sbaglio. Bene, bene, bravo! Seconda domanda, attenzione, il nome di un famosissimo pittore surrealista belga? René Magritte! Bravo! Bravo, è preparato, bene, bene. Attenzione, terza domanda, il nome del musicista belga che inventò lo strumento che oggi porta il suo nome? Antoine Pianfort! Antoine, oh no, no, mi dispiace, signor Stefano, era Adolf Sex! Eh, vabbè, dai, 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 due su tre, che cosa ha vinto? Beh, hai vinto un viaggio in Belgio con Jack. No, non me la sento. Lì piove, fa freddo, viene buio subito. Devo dire che però è proprio un peccato, perché tu non vogli andarci. Perché sai, il Belgio è la capitale del cioccolato. E poi, non so, che cosa ha vinto un peccato, che cosa ha vinto un peccato. E poi, come ti ho vinto un peccato.